Ecco perché, a volte, quando si ha a che fare con la fine di una relazione, il detto il tempo cura tutte le ferite non funziona sempre. Se pensi di essere in questa situazione e non riesci quindi a trovare aiuto da queste soluzioni che ti ho indicato in questo video... Oh, no ragazzi, scusatemi, ho commesso un errore in fase di montaggio. Sono andato troppo avanti. Aspettate, riavvolgo il nastro, torniamo indietro. Per questa settimana era in programma un video molto importante. Ma nella sezione dei commenti del video precedente ho ricevuto una richiesta molto specifica. E ragazzi, questi sono i commenti che io vorrei vedere sotto ogni mio video. Ovvero delle vostre richieste. Perché io sono e sarò sempre felicissimo di accoglierle. Anzi, io sono qui per questo. Il tema del video di oggi, quindi, lo abbiamo già capito. E senza ulteriori indugi, partiamo subito. Tutti noi nella nostra vita abbiamo avuto una, se non più, relazioni importanti. E purtroppo tutti noi, almeno una volta, siamo stati dalla parte di chi è stato mollato. La domanda è, quale può essere l'approccio stoico per affrontare quel periodo che segue quindi la fine di questa relazione? Mettendo insieme quella che è stata la mia esperienza personale, avendo spulciato un po' su internet per cercare anche delle testimonianze di altre persone, possiamo dire che quando qualcuno ci lascia, di solito attraversiamo tre fasi. La fase della negazione, la fase dell'accettazione e la fase dell'azione o della metamorfosi. Andiamo ad analizzarle tutte e tre. Ecco, in questo periodo la rottura è molto fresca. Ciò che proviamo è rabbia e profonda tristezza. In realtà questa fase è molto subdola, perché all'inizio può sembrare che in realtà siamo poco toccati da questo evento. La nostra mente in questo caso ci sta ingannando, facendoci credere di stare bene come meccanismo di difesa. Però poi dopo un po' di tempo, il nostro cervello comincia a farci processare quanto è successo. E finiamo col fare veramente tanta fatica ad accettarlo. Ricordo che io personalmente, quando ho affrontato un periodo del genere, pensavo tra me e me, ma sì, alla fine sto bene. Anzi, forse dovrei scriverle per farle capire che per me è tutto ok e che capisco la sua decisione. E così feci. Durante la prima decina di giorni quindi il copione era questo. Io che facevo finta di stare bene e non facevo altro che scriverle per farglielo sapere. Poi però dopo un po' di tempo comincia ad assalirmi una profonda tristezza e anche rabbia. E in quei giorni non facevo altro che chiederle una seconda chance. In quel periodo quindi durato anche un paio di mesi, mi trovavo in questo stato pietoso. Per fortuna l'aiuto della famiglia e degli amici non mi è mai mancato. La svolta però avvenne una sera. Ricordo che ero stesso sul divano a guardare una puntata di un programma di Federico Buffa. Meraviglioso giornalista e narratore sportivo. In quell'episodio Buffa raccontava il disastro, la tragedia che è stato il mondiale giocato in Brasile nel 1950. Nella partita finale, valevole quindi per il titolo di campione del mondo, le formazioni scese in campo erano Brasile, quindi padroni di casa, e Uruguay. I brasiliani erano convinti di vincere la partita, tant'è vero che cominciarono a festeggiare ben prima di giocare. Ed infatti nel corso della gara andarono anche in vantaggio. Lo stadio con i suoi 200.000 spettatori sugli spalti, tra parentesi record tuttora imbattuto, era una bolgia. Venne quasi giù tutto per la gioia. Contrariamente a quanto una squadra potesse fare nel momento in cui passa in svantaggio, ovvero riprendere frettolosamente il gioco per cercare di pareggiare immediatamente la partita, il capitano dell'Uruguay, Obdulio Varela, fece qualcosa di totalmente inaspettato. Molto ma molto lentamente prese il pallone e si rivolse all'arbitro e al guardalinea, abbozzando una timida protesta. Lui sapeva benissimo che non sarebbe stata accolta, ma lo fece lo stesso. E infatti, dopo il nulla di fatto, ancora più lentamente ritornò al centro del campo per riprendere il gioco. Passarono molti minuti prima che la partita ripresa a giocarsi. Ovviamente tutto questo era voluto. Infatti questa fu una tattica studiata bene da Varela, perché se avesse ripreso subito il gioco, la nazionale del Brasile, già gasatissima di suo, spinta da altre 200.000 anime ancora più in estasi di loro, gli avrebbe fatto almeno altri 4 gol. Invece Varela cucinò questa situazione a fuoco lento, perché tutto il tempo che fece passare servì a smorzare gli animi di tutti, dei giocatori in campo e dei tifosi sugli spalti. Infatti né i giocatori né i tifosi capirono il motivo per cui non si stesse riprendendo subito a giocare e quindi tutte le loro urla vennero subito smorzate. Beh, andate a vedere chi vinse quella partita alla fine. E capirete purtroppo anche perché si tratta di una vera e propria tragedia. Quella storia però per me fu illuminante. Lì arrivai a capire che quando gli spiriti sono bollenti, quando siamo presi dalla rabbia, dalla frustrazione e quindi questi sentimenti ci inducono a fare qualcosa, ciò che dobbiamo fare invece è ritardare l'azione. Perché in questi casi ci sembra tutto lecito e siamo spinti a fare ciò che non dovremmo fare. Il tema della gestione della rabbia per gli stoici era fondamentale. Infatti Seneca ha dedicato a questo scopo ben tre volumi. Li trovate in descrizione. Infatti lui diceva, niente ti sia lecito finché sei adirato. Vuoi sapere per quale ragione? Perché in quel momento vorresti che tutto ti fosse lecito. Il miglior rimedio contro l'ira è perdere tempo. Perché ciò permette di dissolvere il bollore iniziale. E quindi da allora capì che forse dovevo adottare anche io la stessa tattica. Quindi quando ti senti in questo stato, se sei preso dalla voglia di scrivere, di mandare un messaggio, di fare qualsiasi altra cosa, aspetta. Aspetta almeno dieci minuti e chiediti se è veramente necessario farlo. E sappi che nel 100% dei casi la risposta è sempre no. Non è mai necessario. Se vuoi sfruttare la rabbia e la frustrazione, quello che devi fare è scrivere un diario. Come se stessi scrivendo alla tua ragazza o al tuo ragazzo, senza però ovviamente inviargliela, senza mandargiela. Quella servirà solo a te per sfogare tutta la tua frustrazione, tutta la tua rabbia e la tua tristezza. Tutto questo ti aiuterà a processare meglio ciò che stai attraversando. E così dopo questo periodo riuscì ad arrivare, non con poche difficoltà, alla seconda fase, ovvero quella dell'accettazione. In questo caso siamo arrivati alla consapevolezza, e mi dispiace dirtelo se non ci sei ancora arrivato e se sei bloccato nella prima fase, che probabilmente, anzi sicuramente, con quella determinata persona tu non avrai più niente a che fare. E va bene così. Deve andare bene così. Ti posso assicurare che se tu fossi destinato a stare insieme a quella persona, allora stareste ancora insieme. Perché le rotture dei rapporti non avvengono da un giorno all'altro, ma avvengono attraverso un lungo processo che dura mesi se non anni. Mesi, anni in cui le cose non vanno più bene. Ricordo che molto spesso, quando io mi trovavo in questa fase, ero solito pensare tra me e me. Eh ma se non fosse stato per questo, se non fosse stato per quell'altro, allora noi staremmo ancora insieme. Se è questo quello che stai pensando anche tu, no amico mio. Non funziona così. Le cose dovevano andare così perché era l'unico modo in cui dovevano andare. E noi abbiamo il dovere di accettarle, e non solo di accettarle, ma di farcele anche andare bene. E in questo caso cadiamo in un concetto stoico fondamentale, ovvero quello della Morfati, che era proprio il video che volevo fare per questa settimana e che è rimandato alla prossima. Quindi l'argomento sarà molto più approfondito in quell'altro video. Nel manuale di Epiteto è riportato che egli diceva, non devi adoperarti perché gli avvenimenti seguano il tuo desiderio, ma desiderarli così come avvengono, e la tua vita scorrerà serena. Ecco, per gli stoici le cose dovevano andare nell'unico modo in cui dovevano andare perché erano state pensate dall'inizio dei tempi così, per ciascuno di noi. Ecco, tu adesso puoi credere o meno nel destino. Sia che tu ci creda o meno, ciò che succede nella tua vita però è l'unico modo in cui doveva andare. Io sono fermamente convinto di questo, esattamente come lo erano gli stoici. Ecco perché non possiamo ragionare con il se o con il ma, ma ho la possibilità, ho la scelta di decidere che cosa fare con ciò che mi è successo. Quindi una volta accettato tutto questo, arriviamo nella terza ed ultima fase, che è quella dell'azione, o meglio, metamorfosi. In questa fase il peggio è decisamente passato, solo che il lavoro non è ancora compiuto. Ora è il momento di agire e di cambiare. Ecco perché in questo caso si parla di metamorfosi. Perché in questo caso dobbiamo capire che noi siamo degli esseri unici, e che la felicità deve dipendere principalmente da noi. E a tal proposito ho fatto un video sul mio canale che potresti trovare utile. In questo caso, per far sì che questo avvenga, è necessario prendersi cura fisicamente e mentalmente di noi stessi. Possiamo prenderci cura fisicamente di noi, ovviamente praticando sport, qualsiasi tipo di sport, non c'è bisogno di spaccarsi in palestra. Ma soprattutto è molto importante dedicarsi alla propria mente. In questo caso ci può aiutare tantissimo dedicarci a tutte le attività che magari avevamo trascurato, come per esempio i nostri hobby, oppure lo studio. Io infatti direi che sia molto più opportuno andare ad indagare nuove aree, nuove sfere di noi. Quindi potremmo andare a crearci dei nuovi hobby. Questo è molto meglio, proprio per una vera e propria metamorfosi. Io per esempio, da quel momento che mi sono appassionato, ad esempio alla scrittura e all'astronomia. Alla scrittura per via di tutte quelle lettere e pagine di diario che ho scritto. E all'astronomia perché mi ricordo che in quei giorni, era estate, ero solito andare di sera a sdraiarmi sulla spiaggia, ad osservare le stelle. Tutto questo mi dava un profondo senso di pace e di bellezza. E fu anche lì che sperimentai per la prima volta la visione dall'alto, di cui ti ho parlato molte volte nel mio canale. Contemplare quel cielo immenso, la bellezza e la sua maestosità, per un certo senso non faceva altro che attenuare la mia sofferenza. Il punto è che dobbiamo cercare in tutta la nostra vita di essere sempre in continuo movimento, in continuo mutamento. Proprio perché è la natura stessa ad essere in continuo mutamento. Infatti Marco Aurelio non faceva altro che ripeterlo. Si teme il mutamento? Ma cosa può avvenire senza mutamento? Tu stesso potresti fare il bagno se il legno non si trasformasse? Allora le vasche da bagno erano fatte in legno. Potresti nutrirti se i cibi non si trasformassero? Che cos'altro di utile si potrebbe compiere senza mutamento? Non vedi dunque che anche il tuo stesso mutare sia ugualmente necessario alla natura universale? E continuava dicendo l'esistenza è come un fiume che incessantemente scorre. Le attività sono soggette a continue trasformazioni. Le cause ad infiniti mutamenti. E quasi niente è stabile. Abbracciamo il fatto di cambiare noi stessi e abbracciamo anche il fatto che la nostra vita sia cambiata perché nel momento in cui veniamo mollati ovviamente la nostra vita cambia. Questo cambiamento nella nostra vita è normale, è nella natura delle cose e deve essere così. Dobbiamo accogliere tutto questo. Ed ecco che una volta attraversate tutte queste tre fasi saremmo ritornati e saremmo molto più forti di prima perché ne saremmo usciti sicuramente migliori. Quindi il tempo cura tutte le ferite. Però a volte la fine di una relazione provoca un trauma talmente profondo dal quale è difficile uscire anche seguendo queste tre fasi. Che cosa intendiamo per trauma? Quando il dolore di un'esperienza che abbiamo vissuto è talmente forte da sopportare oppure sopportiamo questa situazione che ci fa stare così male da tempo immemore tale da non sapere come uscirne allora il tuo cervello, la tua mente, il tuo corpo ti faranno vivere in un perenne stato di shock. E questo nel caso delle relazioni perché è questo ciò che stiamo trattando ti impedirà di fidarti nuovamente delle persone e quindi di avere altri rapporti. Perché anche solo il ricordo di quell'esperienza traumatica ti farà rivivere fisiologicamente e psicologicamente quel momento di rottura con quella determinata persona. A tal proposito ti consiglio una lettura meravigliosa del dottore, psicologo, psichiatra Besser van der Kolk. Spero di averlo pronunciato bene. Il libro si chiama Il corpo accusa il colpo che tratta proprio questi argomenti i vari tipi di trauma e come superarli. Anche in questo caso trovate il link in descrizione. Ecco perché a volte quando si ha a che fare con la fine di una relazione il detto il tempo cura tutte le ferite non funziona sempre. Se pensi di essere in questa situazione e non riesci quindi a trovare aiuto da queste soluzioni che ti ho indicato in questo video allora mi raccomando chiedi aiuto ad una persona qualificata che ti possa dare realmente una mano. L'unica cosa che posso dirti però è questa. Per quanto questa situazione possa farti stare male per quanto tu pensi che sia insopportabile ti prometto e ti assicuro che c'è una via di uscita che là fuori esiste una soluzione a tutto ciò che stai affrontando. Non sei da solo o da sola. Grazie a tutti ragazzi per aver seguito fino a qui lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per supportare la mia attività e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!